massimiliano varrese al grande fratello in questi giorni si è lasciato andare a una sfuriata improvvisa e per molti suoi coinquilini senza senso sembra proprio che l'attore abbia rotto dei legami solidi che aveva creato nella casa di cine città stasera alfonso signorini gli chiede di spiegare cos'è successo e di fare i nomi dei gfini con cui ha problemi il conduttore poco dopo ha smentito una dichiarazione di massimiliano quest'ultimo parte dalle origini per spiegare la situazione facendo notare che quando erano aperte delle questioni con ai di baci molti di loro gli avrebbero chiesto di non abbandonare il gioco varrese assicura che aveva già le valigie pronte ma signorini come tanti telespettatori non crede che l'avrebbe mai fatto e glielo dice chiaramente stroncandolo in diretta tanto non saresti mai uscito non credo io lo do per scontato il pubblico prepara i popcorn soddisfatto delle stoccate che alfonso riserva a varrese il quale crede di essere molto forte nel televoto al grande fratello l'ira di massimiliano non si ferma quando fiordaliso spiega che semplicemente i più giovani stanno crescendo dentro la casa e prendendo delle posizioni cambiando gli equilibri secondo la cantante però non c'è nessuno da ringraziare per questo ed è proprio per questo ciò che vorrebbe massimiliano mi avete chiesto anche voi un sostegno dichiara l'attore a questo punto interviene cesara buonamici dallo studio che si lascia andare a delle belle stoccate per varrese mi sei tornato marchese del grillo hai fatto un po tutto da solo vabbè ma dai che ti hanno fatto di male ancora l'abbiamo già sentito ma se ti ringraziano che ti sei ria pacificato con beatrice vabbè ditegli grazie e finiamola così grande fratello letizia sgancia la bomba e smaschera massimiliano il blocco va avanti con la clip che riprende la sfuriata di questi giorni di massimiliano che si è scagliato soprattutto contro giuseppe garibaldi e che ha generato ulteriori sospetti su una sua probabile strategia beatrice luzi dice la sua e spiega che in realtà un po tutti sono giocatori cesara conferma facendo notare che è giusto che ci siano i giocatori in casa visto che questo è un gioco intanto varrese continua per la sua strada e dichiara di essere deluso dai suoi compagni